Un piacere chiaramente vincere questa Coppa Italia giocata tra l'altro in casa davanti a tanto pubblico, ci dà tanta forza, ci dà tanta autostima, tanta fiducia, tanto morale, è stata una tre giorni dura, difficile, appassionante e alla fine è stata anche vincente, quindi siamo veramente molto felici, molto contenti di quello che è successo. Gli ultimi secondi ho finito un sito meglio, mi è rivenuto un po' di adrenalina e poi siamo riusciti a trovare il canestro subendo qualche spallo e mi è andata bene nel movimento spalla canestro alla fine, quindi serviva che qualcuno facesse qualcosa, chi finiva, finiva, andava bene, sono stato fortunato che sia stato io. Sì, sono stati probabilmente tre giorni perfetti, volevamo una vittoria, io penso in primis la volevo a tutti i costi e devo dire grazie ai ragazzi che mi hanno dato questa gioia pazzesca. Grazie. 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 Grazie.